i fratelli dello spazio attraverso vanda a cura di vb noi ci completiamo a vicenda e in futuro si aggiungeranno altre forze altri pensieri altre creature compatibili col nostro e vostro cammino e ci fonderemo continuando il nostro discorso sull'amore unendoci saremo una forza che scoterà gli indifferenti immettendo in loro il senso della vera vita e del vero amore noi potremmo unirci anche nell'altra dimensione comprendendoci meglio e senza giri di parole che molte volte non raggiungono il vero obiettivo poiché non sono adeguate si perde il vero significato del dire che non viene affatto chiarito una piccola parvenza di cose dette non visualizzate in pieno ora vorremmo salutare te e tutti i fratelli umani un saluto sentito e particolare alla creatura che mancherà nella tua vita umana ma sarà vicina alla vera essenza della tua anima salve dai fratelli cosmici e nu